Questa è la guida definitiva se vuoi trasferirti qua in Svizzera, soprattutto a Zurigo. Infatti in questo video ti spiegherò esattamente tutto quello che devi fare, tutti i passaggi che io stesso ho dovuto passare per trasferirmi qua a Zurigo definitivamente. Molti sicuramente saranno simili anche agli altri cantoni e alle altre città qua in Svizzera, ma ti posso assicurare che questi step si applicano alle città più grandi, come possono essere Zurigo, Ginevra, Lausanna e così via. Sicuramente se vivi nella Svizzera italiana tutti questi passaggi ti sembrano anche molto strani perché lì è molto più facile, sia per la lingua, sia per gli appartamenti e così via. Ma tutti i passaggi che ti spiegherò si basano sulla mia esperienza personale, su tutto quello che ho dovuto passare per trasferirmi definitivamente qua a Zurigo. E ti posso assicurare che è l'esperienza analoga a tutte le altre persone che ho conosciuto in questa città. Soprattutto ho deciso di fare questa guida perché ho notato che ci sono tantissime truffe online, tra virgolette truffe, diciamo servizi a pagamento, che ti spingono a pagare cifre enormi per fare tutto il passaggio da Italia a Svizzera, quando in realtà ci sono tutte le informazioni alla portata di tutti, ma in effetti sono un pochino complicate da reperire, quindi voglio fare un recap di quello che è stato il mio iter per trasferirmi qua a Zurigo. E soprattutto ti condividerò anche i siti utili, almeno i siti che sono stati utili a me, non sono stato sponsorizzato per sviluppare questo video, ovviamente, ma ti condividerò anche quei siti che ti permetteranno di avere la visione più chiara di tutti i passaggi da fare, trovare a casa e così via, perché tutti quegli italiani ovviamente non funzionano qua. Ma prima mi raccomando ricordati di mettere like a questo video e iscriverti al canale se vuoi raggiungere la tua indipendenza finanziaria e imparare a far lavorare i soldi al posto tuo. Non ti costa nulla ma aiuta l'algoritmo di YouTube a dare visibilità a tutti i contenuti di cultura finanziaria anche pubblico su base settimanale. E con questo voglio fare un attimo una parentesi perché è il mio centesimo video all'interno di YouTube. Ormai sono ben due anni e qualcosa che ho deciso di pubblicare video all'interno di questa piattaforma, quindi aiutami a festeggiare ancora di più questo traguardo mettendo like e iscrivendoti al mio canale. Premessa, prima di vedere tutti gli step da seguire, questa guida è valida per le persone fisiche. Io personalmente ho anche trasferito, ho quasi finito di trasferire la mia partita IVA, ancora sto cercando di capire se è il caso di aprire l'attività oppure partita IVA separata. Sto valutando, magari farò una guida separata anche per quello. Ho chiuso la mia partita IVA in Italia il 31 dicembre del 2022. Se vuoi vedere cosa ho pagato l'anno scorso, poi questo video magari farò un video anche su tutte le tasse che ho dovuto effettivamente pagare a prendere e chiudendo la mia partita IVA in Italia dopo due anni e mezzo. Fammi sapere nei commenti che magari faccio un video doc. Ma questa guida è più pensata per tutte le persone normali che vogliono trasferirsi in Svizzera, sia che siano imprenditori, sia che siano lavoratori dipendenti, indifferente. Step numero uno, devi poter dimostrare di avere un reddito in Svizzera. Il che significa nella maggior parte dei casi, se sei un lavoratore dipendente, avere un contratto di lavoro già firmato che attesti il fatto che tu da una certa data inizierai a lavorare come dipendente presso l'azienda X. Oppure se sei un'azienda, generalmente devi poterla trasferire all'interno della Svizzera e devi poter giustificare il fatto che tu lavori all'interno di quell'azienda e che tu percepisca un reddito come lavoratore all'interno di quell'azienda. Partendo dal mio caso, io ho deciso di accettare una posizione come lavoratore dipendente presso un'altra azienda, dopo che comunque io, anche se ho fatto le mie attività parallele, ho sempre inviato i miei curriculum fuori per cercare di capire cosa c'era lì fuori della mia posizione lavorativa precedente. Ti metto qua sia il link del perché ho deciso di dare le mie missioni e ti metto anche qua il link sul come creare un curriculum efficace per poter essere preso ai colloqui successivi. Quindi io da sempre ho fatto colloqui separatamente al mio lavoro principale per capire se c'era un'opportunità migliore da lavoratore dipendente mentre ovviamente portavo avanti la mia attività parallela. Dopodiché, fatto i colloqui, ho ricevuto l'offerta, c'è stata una negoziazione ovviamente del salario se vuoi che faccia anche un video dedicato alla negoziazione di un salario scrivelo sotto nei commenti che potrebbe essere un ottimo topic perché ricordiamoci che l'obiettivo è quello di patrimonializzarsi non è quello di fare gli imprenditori e basta. Io ho spiegato perché all'interno del video precedente. Quindi come si fa a trovare lavoro qua in Svizzera? Sicuramente deve avere un profilo LinkedIn ben strutturato così come un curriculum ben strutturato. Ti ho spiegato come fare all'interno del video precedente. Soprattutto devi sapere l'inglese per tutte le posizioni ma diciamo che la maggior parte delle posizioni richiede il tedesco nel mio caso non richiede il tedesco quindi è stato anche più facile. Tuttavia lo sto studiando adesso perché se nel caso un giorno decidessi di cambiare lavoro e continuare a fare lavoratore dipendente in Svizzera sicuramente o quasi sicuramente nel 90% dei casi ad oggi è richiesta la lingua tedesca. Però se già parli tedesco non avrai problemi. Questo vale ovviamente per Zurigo però se vai a Lugano la situazione sarà molto più facile perché si parla italiano mentre se vai nella Svizzera francese se parli francese sarà ancora più facile. Però tornando al punto principale primo passo per trasferirsi in Svizzera devi avere un contratto di lavoro firmato che dica che a partire da una certa data tu inizierai a lavorare. Secondo passo, bene, hai trovato un lavoro hai il contratto di lavoro firmato sai quando inizierai a lavorare devi trovare a casa. Ora qua ci sono ben due casi il caso uno è quello più facile il caso in cui l'azienda ti aiuti a trasferirti qua in Svizzera quindi ti dia a casa e così via. Il secondo caso invece è quando devi fare tutto da solo o comunque magari l'azienda ti dà un pacchetto per trasferirti qua in Svizzera un pacchetto monetario si intende per trasferirsi qua in Svizzera. Io consiglierei il primo caso se si può fare personalmente sulla base della mia esperienza ma più delle volte ti daranno il secondo pacchetto. E qua c'è da sapere una cosa che se tu non hai un permesso di soggiorno non puoi applicare tra le case soprattutto nella Svizzera francese e tedesca forse è diverso nella Svizzera italiana. Questo perché la maggior parte delle case sono di proprietà o comunque sono gestite da delle agenzie che vogliono delle garanzie quindi se tu ancora non hai un permesso di soggiorno non puoi fare application non puoi fare domanda per una casa che è andata in affitto. E c'è un'altra pecca che il permesso di soggiorno te lo danno quando hai una casa e non puoi venire qua in hotel o in un Airbnb da quanto mi avranno detto tutti per ottenere appunto il permesso di soggiorno. Per avere un permesso di soggiorno per fare domanda per un permesso di soggiorno ti servono ovviamente il contratto di lavoro e un contratto di locazione. Quindi come cavolo si fa a ottenere questa casa e il permesso di soggiorno prima di tutto devi cercare una casa temporanea almeno quello è quello che ho fatto io ed è la casa in cui mi trovo in questo momento anzi questo è l'ultimo video che giro all'interno di questa casa perché poi ho trovato casa e mi trasferirò. Quindi come si fa in questi casi? Generalmente c'è dato che qua è molto comune il fatto di fare un sabbatico per qualche mese da parte delle persone che vivono già in Svizzera non mollano la casa ti fanno un contratto di sub-affitto tu sub-entri come è stato nel mio caso per un po' di mesi dopodiché quando tornano tu gli ridai le chiavi te ne vai e si spera che tu abbia trovato casa. Però perché è fondamentale questo? Perché una volta che tu hai il contratto di sub-affitto che dice che tu vivi in una certa casa e che hai un contratto puoi fare l'application ovviamente per il permesso di soggiorno e ti servirà poi per qualunque altra cosa qua in Svizzera. Quindi dove si trovano queste opportunità? Si trovano ovviamente su gruppi Facebook banalmente dove puoi trovare sia delle camere che degli appartamenti più facile forse trovare delle camere anche se poi dopo devi essere confermato dai coinquilini. Quindi si cerca nei gruppi Facebook oppure in siti di immobili come possono essere Flatfox oppure in Moscout o tantissimi altri siti che puoi trovare direttamente sul sito di comparis.ch te lo consiglio non sono sponsorizzato in alcun modo ma per qualunque cosa inerente alla Svizzera se vieni da fuori ma anche se sei in Svizzera c'è comparis.ch Cosa ti consiglio di fare? Ti consiglio di almeno prendere una casa per tre mesi in subaffitto se no dovresti cambiare di mese in mese perché una casa definitiva è difficile da trovare soprattutto nei cantoni francesi e tedeschi quelli italiani da quanto ho capito è molto più facile. Quindi ti consiglio personalmente di trovare una casa per almeno tre mesi che poi ti serviranno sia per ottenere tutte le certificazioni che ti servono per stare qua in Svizzera sia per fare application per tutte le altre case. E ti posso assicurare che saranno tante ma sarà uno step successivo e sarà molto difficile essere selezionati. Terza cosa che devi fare è l'assicurazione ovvero questo dipende molto dalla casa in cui farai subaffitto perché generalmente o ti chiedono una cauzione di tre mesi del valore dell'affitto oppure magari ti chiedono l'anticipo dei mesi che dovrai passare all'interno di questa casa in più ti chiedono un'assicurazione che in realtà ha un costo irrisorio però un'assicurazione in caso in cui tu faccia dei danni all'interno dell'appartamento. Questa è la Personal Liability Insurance e trovi tutto ovviamente su Comparis se vuoi. Il costo di questa assicurazione si aggira intorno agli 80-100 franchi o anche di più dipende da te annualmente. In mio caso ho dovuto anticipare tre mensilità dell'appartamento in più ho dovuto fare questa assicurazione per la durata dei mesi in cui sto in questa casa ovviamente. Adesso non so se poi mi rimborseranno la differenza ma comunque trattandosi di 80-100 franchi chi se ne frega poi dopo la cancelli e l'anno prossimo non la rinnovi se trovi una casa in cui non serve più. Benissimo adesso punto 4 hai un contratto di lavoro hai un'assicurazione hai trovato una casa e adesso che cavolo devi fare? Devi dichiarare il tuo arrivo in Svizzera entro 14 giorni. E qua c'è il problema perché trovare la casa quando sei fuori dalla Svizzera è molto complicato. A me è andata bene ho trovato una casa direttamente tramite una Zoom Call ma generalmente è molto complicato. Quindi a volte si consiglia di prenotare tutta una serie di appuntamenti per verificare le case direttamente da fuori venire nel weekend o comunque in settimana per vedere tutte queste case e dopodiché sperare che appunto gli inquilini ti prendano. Consiglio mio meglio di no se sai che devi venire in Svizzera inizia già tre mesi prima o anche di più per cercare anche soltanto una stanza temporanea perché se no è davvero complicato. E ripeto qua si parla della Svizzera francese e tedesca. Però diciamo che hai trovato un appartamento hai trovato casa quindi hai un contratto di lavoro firmato e magari hai anche fatto l'assicurazione. Ora è 14 giorni di tempo per dichiarare il tuo arrivo in Svizzera e devi farlo in uno degli uffici del comune di competenza in base ovviamente al tuo appartamento quindi devi guardare il tuo codice postale basta cercare su compare o anche semplicemente su internet dichiarazione di arrivo in Svizzera e metti il codice postale e ti viene fuori ovviamente l'ufficio di competenza devi andare lì puoi fare con l'appuntamento oppure senza appuntamento ti presenti specifichi la data di ingresso in Svizzera dai tutte le informazioni necessarie che ti richiedono dopodiché dovrai pagare una tassa che generalmente si aggira tra gli 80 100 o anche un pochino di più 150 franchi dipende ovviamente dal comune e pagata quella ti viene dato un appuntamento per andare ovviamente a richiedere il permesso di soggiorno all'ufficio immigrazione e questo richiederà almeno un mesetto ovviamente dipende tutto dal comune dipende dall'affollamento dipende da un sacco di cose però a me è stato dato con un mese di ritardo quindi ho avuto un mese in cui io non ho avuto un permesso di soggiorno ma ti danno una certificazione che certifica il fatto che tu sei arrivato in Svizzera e che puoi già usare per tutti gli step successivi anche se magari dopo avrai un pochino più di complicazioni perché non potrai farlo in maniera digitale però dovrai presentarti fisicamente in tutti i posti in cui ti dirò nei prossimi punti step numero 5 devi avere il numero di telefono svizzero numero di telefono svizzero è essenziale per qualunque cosa sia per trovare casa sia per fare domanda per una banca per qualunque cosa ti serve un numero di telefono svizzero se no avrai complicazioni ora ci sono tantissimi provider considera che i costi qua in Svizzera sono molto più elevati ti sembreranno molti più elevati rispetto a quelli in Italia però ti posso assicurare che la linea va molto più veloce rispetto alla linea italiana e prende ovunque praticamente quindi ti lascio qua sotto uno dei provider più famosi che ci sono qua in Svizzera puoi scegliere quello che vuoi però sappi che meno di 50-60 franchi al mese non spenderai però ti serve essenzialmente per fare qualunque cosa poi se la tua azienda ti permette di avere un numero di telefono aziendale puoi utilizzare quello inizialmente dopodiché puoi cambiarlo più avanti ti metto qua sotto comunque il link di quello che uso io step numero 6 ti serve uno Swiss ID e lo Swiss Pass lo Swiss ID fai che sia lo Speed svizzero quindi ti serve per firmare digitalmente qualunque cosa e anche per richiedere dei documenti essenziali per fare domanda per una casa mentre lo Swiss Pass ti serve per qualunque altra cosa abbonamenti vari del treno sconti vari promozioni e così via ti consiglio di farlo perché è essenziale soprattutto se puoi usare i mezzi in Svizzera che possono essere sia i treni che anche i tram step numero 7 ti serve un conto corrente svizzero non bastano quelli multi currency italiani che ho già citato in diversi video passati l'unico in realtà conto che ancora oggi posso ottenere perché una volta che ti trasferisci poi tutti i conti dovresti chiuderli l'unico conto che io ad oggi ancora sto tenendo è il conto Wise ti metto sotto il link che è quello che mi ha permesso di fare tutti i trasferimenti tutti i pagamenti fin tanto che non avevo un conto svizzero e anzi tuttora lo uso ovviamente per il cambio valute anche se qua ci sono delle banche più specifiche svizzere per fare tutta la questione del cambio valuta che magari farò un video ad hoc più avanti se non lo metti nei commenti quindi è importante perché poi dopo tutti i conti italiani vanno chiusi qualunque sia il tuo conto che sia un conto di investimenti che sia un conto corrente qualunque conto italiano va chiuso per una questione italiana ragazzi per avere un conto normale italiano devi avere residenza italiana ma se ti trasferisci in Svizzera devi avere residenza a Svizzera non puoi più tenere quel conto con residenza italiana dovresti aprire un conto con residenza estera per l'Italia ti costerà di più ma vabbè verranno chiusi e potresti correre il rischio una volta che è trasferito la residenza che ti chiudono il conto improvvisamente e ti chiedono di passare per ritirare un assegno che ti permetta poi dopo di ritirare tutti i tuoi soldi ora qua c'è una questione sia per il numero di telefono che per il conto in banco o per qualunque altra cosa se ancora non hai ottenuto il permesso di soggiorno dalla Svizzera una volta che arrivi fai come ti ho detto prima una volta che fai tutti i passaggi che ti danno appuntamento per ottenere il permesso di soggiorno se ancora non ce l'hai come è stato nel mio caso che devi aspettare un mese prima di ottenere il permesso di soggiorno e hai un foglio che attesti che sei arrivato in questo paese quello che puoi fare è ricarti di persona nella banca nell'ufficio nello store dei telefoni in cui presenti questo documento e allora puoi fare la richiesta ovviamente del numero di telefono del conto corrente e così via se no non puoi farlo digitalmente e anzi una volta che otterrai ovviamente il permesso di soggiorno dovrai condividerlo all'interno di questi servizi delle banche della compagnia telefonica e così via però per fare tutto subito puoi già usare quel foglio che ti danno sul tema della banca quale banca scegliere ce ne sono tantissime dipende dai servizi che cerchi tu scegliere in base alle tue preferenze in base ai servizi che danno io magari più avanti farò metterò un link di quelle che uso io però diciamo che più o meno sono tutte analoghe magari andare a vedere quali sono quelle che costano di più quelle che costano di meno con i servizi paragonabili fatta la banca hai un conto in banca finalmente consiglio personale ti salverò la vita fai un conto Twint è un'app che ti permetterà di fare qualunque tipologia di pagamento in un secondo non mi è mai capitato di pagare qualunque cosa nel giro di un secondo effettivamente un secondo ma questa viene anche utilizzata per qualunque altra cosa promozioni scambio di soldi tra amici non l'avevo mai sentita prima ma qua in Svizzera è utilizzata da tutti praticamente step numero 9 la cassa malati l'assicurazione sanitaria questa va fatta entro tre mesi dalla data di arrivo ovvero la data che comunichi che sei arrivato al comune di competenza ora l'assicurazione sanitaria è obbligatoria e parte dalla data di arrivo quindi cosa significa che se come nel mio caso sei arrivato il 17 gennaio e attivi l'assicurazione dopo due mesi tu comunque pagherai tutto dal 17 gennaio ovvero dalla data in cui sei arrivato ovviamente lo pagherai a posteriori però la devi scegliere e se non la scegli ovviamente ti verrà assegnata in maniera automatica e non è detto che ti verrà assegnata quella più adatta ovviamente alle tue richieste quella di base deve essere scelta da tutti dopo di che c'è una assicurazione complementare che puoi modificarla come vuoi ma la cosa bella è che tu puoi modificarla di anno in anno in base ovviamente a quello che tu prospetti di avere durante l'anno quindi se sai già che l'anno prossimo devi fare una serie di visite allora ti conviene fare un'assicurazione diversa fin da subito e poi l'anno prossimo la modificherai quindi c'è questa falsa credenza però che qua in Svizzera in realtà sia come in America in realtà no ragazzi non è che se stai male vieni lasciato in strada a schiattare come in America qua in realtà è un mix tra privata e pubblica però non è una tassa che viene detratta ovviamente alla fonte una volta che ricevi il tuo stipendio ma la devi pagare tu mensilmente trimestralmente in base a quello che scegli in base all'assicurazione che deciderai di comprare considera che meno di 300 franchi è difficile pagare per l'assicurazione di base dopodiché c'è tutta l'assicurazione complementare che potrai aggiungere oppure no che va ad aumentare ovviamente il prezzo il costo di questa assicurazione step numero 10 bene hai tutto devi iscriverti all'Aire cos'è l'Aire? è l'associazione di italiani residenti all'estero non aspettare per iscriverti all'Aire consiglio personale questo perché sono lenti quindi più aspetti peggio è vieni considerato fiscalmente residente in Italia se passi almeno 6 mesi e un giorno mi pare in Italia quindi consiglio personale in qualunque caso manda l'iscrizione all'Aire appena hai fatto tutti questi passaggi basta andare sul sito dell'Aire iscriverti con lo speed e mandare tutte le informazioni richieste che sono ovviamente sulla base di tutto quello che abbiamo fatto prima tutte le documentazioni che riceverai prima potrai utilizzarle per fare domanda all'Aire però sappi che ci impiegheranno un po' di tempo quindi se ad esempio come nel mio caso che arrivi nella prima metà dell'anno fallo subito così eviti di pagare le tasse per l'anno corrente se invece arrivi in un paese estero questo vale per qualunque paese dopo nella seconda metà dell'anno sappi che comunque dovrai pagare le tasse in Italia per il tuo primo anno anche se percepirai lo stipendio nel nuovo paese almeno dall'anno successivo non avrai questi problemi prima lo fai meglio è questo perché ti posso assicurare che ci impiegheranno tanto tempo e devi rincorrere l'ambasciata di competenza nel mio caso l'ambasciata di Zurigo è stata molto veloce per mandare appunto la richiesta una volta ricevuta dall'Aire al mio comune precedente di residenza dopodiché devi mandare magari una mail per sollecitare il comune di residenza che poi dopo rimanda la richiesta all'Aire e è confermata ora il mio caso è stato anche abbastanza veloce ma ti posso assicurare che conosco un sacco di persone parse nel mondo che sono bloccate o per il problema dell'ambasciata di riferimento nel loro paese o per un problema del proprio comune di residenza che non manda magari l'informazione non la riceve insomma ci si impiega un po' però fa fede ovviamente la data in cui tu fai domanda per l'iscrizione all'Aire bene ora ti sei svincolato ufficialmente dal fisco italiano che cosa devi fare adesso? step numero 11 devi chiudere tutti i conti trasferire i tuoi soldi in conti del paese in cui risiedi oppure creare dei conti italiani da residente estero con costi aggiuntivi ovviamente però non potrai farlo nella stessa banca perché generalmente non puoi avere due conti associati alla stessa persona nello stesso momento sia da residente che da non residente giusto che tu lo sappia questo vale anche per i conti deposito vale anche per i conti di investimento magari c'è la possibilità di modificare il proprio conto direttamente sul sito del broker vai lì e dici che sei residente estero non è sempre così più delle volte dovrai chiudere e trasferire tutti i tuoi titoli da un broker all'altro io personalmente colgo l'occasione per trasferire i miei titoli da DeGiro che utilizzavo prima in parte sia per le azioni sia per gli ETF adesso ho chiesto il trasferimento di miei titoli in Interactive Broker li metto sotto il link e una parte li trasferirò al DeGiro Svizzero quindi da oggi utilizzerò due broker uno specifico per la parte ETF uno specifico per la parte azioni ti metto ovviamente sotto i link di entrambi questi broker così che anche tu possa aprirli funzionano anche in Italia giusto che tu lo sappia quindi se vorrai utilizzare questi broker da cittadino italiano lo puoi fare ti metto sotto i link e ovviamente se vuoi avere una cultura finanziaria a capire come fare ho fatto sia un corso una guida gratuita e ti mando qua il link ai video gratuiti bene adesso possiamo fare domanda step 12 per una casa più di lungo termine come ho fatto io io adesso mi sto per trasferire quindi come ho detto questa è l'ultima volta che vedrai questo setting cambierò casa a breve dovevo fare tutto il trasferimento mi è andata molto bene nel senso che per trovare casa qua è un incubo mi spiego meglio se hai visto qualche mia esperienza qualche mio reel sia su TikTok che su Instagram che anche qua su YouTube hai visto che il più delle volte ti trovi ad andare a vedere la casa prenotare un appuntamento che più delle volte si riempie subito vai lì e c'è una fila pazzesca sei lì un'ora soltanto per vedere per 5 minuti neanche un appartamento a cui dopo devi fare l'application e dopo di che devi passare l'application ed essere selezionato ma ci sono una serie di cose e una serie di accorgimenti a cui devi fare attenzione soprattutto se vieni nella Svizzera tedesca e francese ecco una serie di cose che devi avere se vuoi fare domanda per una casa non penso che si applichino a magari una stanza non lo so perché non ho fatto domanda per una stanza forse non te lo chiedono però ti chiederanno qualcosa di sicuro come garanzia allora considera che qua per trovare una casa ti servono almeno tre mesi conosco persone che poi dopo ci hanno messo anche un anno ci sono tantissime app su cui trovare queste case non temporanee come ti ho detto prima Flatfox in Moscow e chi viene a prima metta vai sempre a vedere su comparis.ch ti ho già messo il link prima però anche un po' di cose che sono necessarie se vuoi fare application step numero uno tu fai application per una casa devi assicurarti che il costo della casa il prezzo mensile di una casa sia al massimo un terzo più o meno del tuo stipendio lordo che significa che se tu fai domanda per una casa che vale 2000 franchi al mese adesso magari dici tantissimo e tantissimo no ragazzi è lo standard dai 2000 ai 3000 di base come case qua a Zurigo però se fai domanda qua per una casa che costa 2000 franchi al mese devi almeno guadagnare lordi grossi come si dice qua 6000 franchi al mese se no proprio non vieni considerato e quando fai application devi mettere appunto il tuo stipendio lordo annuale c'è anche da dire un'altra cosa che per mantenere la domanda stabile se tu guadagni troppo e fai una domanda per una casa che costa troppo poco molte volte non ti accettano posta perché vogliono dare la possibilità a chiunque di ottenere quella casa anche a gente che magari guadagna di meno però non è detto che sia sempre così dipendo ovviamente dall'agenzia agenzia e dipende anche dalle referenze perché ad esempio nel mio caso io sono stato consigliato dalla persona che era già all'interno di questa casa ed ero l'unico ad aver fatto domanda quindi significa che questa casa non era ancora stata listata e in base alle tempistiche eccetera l'azienda preferisce magari accettare subito e avere un cash flow immediato piuttosto che prendere un'altra persona più tra virgolette adatta quindi dipende molto da agenzia agenzia dipende molto da caso a caso non c'è uno standard l'unica cosa sicura è che se tu non guadagni almeno tre volte di più rispetto al costo della casa non te la danno dopodiché per fare domanda ovviamente bisogno del permesso di soggiorno devi anche fare la richiesta dell'estratto dei debiti che puoi fare direttamente tramite una delle app che ti ho evidenziato prima ovvero SwissID con quella lo paghi sono circa 30 franchi di due ore e tre mesi e per quando fai application la devi inserire ovviamente all'interno dell'application per capire se hai dei debiti in essere praticamente dopodiché devi considerare una serie di cose quando fai domanda per una casa e più delle volte ti viene richiesta una caparra di almeno tre mesi un po' standard quindi se la casa ti costa 2000 franchi generalmente dovrai pagare in anticipo 6000 franchi però c'è un altro servizio che io ho deciso di utilizzare che si chiama SwissCaution ma ci sono tantissime altre aziende che lo fanno è un'assicurazione che tu paghi annualmente e si prende carico tra virgolette della cauzione al posto tuo cosa significa? Significa che tu non devi mettere fermi in questo caso specifico facciamo esempio di 2000 non devi fermare 6000 franchi anche se dopo ovviamente te li ridanno con un minimo di interesse ma hai la possibilità magari come spiego in tantissimi dei miei video precedenti di prendere quei soldi metterli a rendita e se ti danno un interesse maggiore ovviamente ti ripaghi sia il costo annuale di questa assicurazione sia ovviamente hai un minimo di guadagno perché ricordo che qua in Svizzera non si pagano tasse sul capital gain quindi come dico sempre se hai una cultura finanziaria riesci a far rendere i tuoi soldi di più dei tuoi costi tanto vale prendere i soldi metterli a rendita piuttosto che fermarli lì in un conto separato che ovviamente non ti rende nulla quindi io ho optato per questa opzione magari non è sempre possibile per tutti da voi decidere però sappiate che molte agenzie accettano anche questa possibilità qua poi devi sapere che qua la maggior parte delle case a meno che tu non vada in subastitto come è capitato a me in cui hai già tutto il mobilio devi acquistare il mobilio o della persona che se ne va oppure devi acquistarlo da zero qua dipende da te ovviamente il costo per delle cose di base ti varia da un 3.000 franchi ai 6.000 franchi poi ovviamente se uno vuole di più sta lui o lei a decidere cosa acquistare per la propria casa però ci si aspetta che una volta che sei arrivato qua tu non arrivi tre mesi o quattro mesi prima che tu inizi a lavorare ovviamente devi aver già iniziato a lavorare devi aver già iniziato a guadagnare quindi diciamo sarà un costo quasi irrisorio in base alla tua busta paga però devi anche considerare questa se decidi di venire qua in Svizzera perché la maggior parte delle case o sono spoglie oppure ti chiedono di acquistare tutto il mobilio della persona che se ne va bene hai anche trovato casa adesso sei a posto sei finalmente residente in Svizzera hai fatto tutti i passaggi puoi pensare ad altro tipo i corsi di lingua o qualunque altra cosa punto 13 in cui mi trovo io in questo momento è anche fare un'assicurazione legale e la consiglio a tutti sto ancora decidendo quale fare però è un'assicurazione che ti permette di essere tranquillo qualunque sia un problema legale che potresti incontrare soprattutto se consideri problemi di lingua e le differenze nelle leggi preferisco farla e consiglio a tutti di farla piuttosto che magari vivere nell'ombra se succede qualunque tipo di problema e considera che questo ti può costare da un 200 a 300 o anche più franchi all'anno in realtà ultimissima cosa da fare sarebbe il cambio della patente però per questa è un anno di tempo per fare il cambio da patente italiana a patente svizzera perché dopo un anno che sei residente all'estero ovviamente ti scade quella italiana abbiamo tempo un anno io avrò tempo fino a gennaio 2024 per adattare ovviamente la mia patente a quella svizzera un'altra cosa che è utile da dire è che se tu cambi casa come è stato nel mio caso e dovrò farlo nel giro di 14 giorni da quando cambio residenza ovvero cambio casa se tu trovi casa in un comune diverso da quello che è il tuo principale dovrai fare uno step tipo lo step iniziale che abbiamo fatto quando dichiari il tuo arrivo in svizzera dovrai dichiarare il tuo arrivo presto il nuovo comune e probabilmente dovrai pagare una nuova tassa di circa 100-200 franc adesso non lo so più o meno magari ti farò sapere in una delle storie di instagram e qua c'è anche da notare una cosa che le tasse che andrai a pagare cambieranno molto in base sia al cantone in cui metti la residenza sia il comune in cui tu metti la residenza quindi io banalmente ho scoperto che cambiando dal comune in cui mi trovo adesso al prossimo comune dove andrò pagherò leggermente meno tasse e quindi avrò più cash flow a disposizione e questo lo fanno sia i cantoni che i comuni per incentivare le persone a trasferirsi da un comune all'altro quindi facciamo un recap dei costi così capiamo se effettivamente le persone possono trasferirsi qua in svizzera facilmente al netto di tutti i costi per sopravvivere di cui ho già fatto un video in passato per i miei primi tre mesi qua in svizzera che ti consiglio di andare a vedere per capire quanto si spende abbiamo i 100 franchi dell'iscrizione iniziale una volta che arrivi abbiamo una casa temporanea che costa più o meno in media 2000 franchi al mese e dovrai anticipare magari tre mesi quindi sono 6000 franchi ovviamente dipende da casa a casa ma prendiamo un esempio standard di 2000 franchi al mese questo dipende ovviamente da chi vai a sostituire temporaneamente a volte ti chiedono una caparra a volte ti chiedono l'anticipo dei mesi in cui andrai a vivere lì quindi nel mio caso ho dovuto anticipare i mesi e facciamo un esempio di appartamento standard da 2000 franchi pagheresti 6000 franchi subito poi c'è da pagare subito la cassa malati prendiamo un esempio standard di 300 franchi al mese quindi da subito dovrai pagare 300 franchi poi c'è l'assicurazione sulla personal liability che sono circa 100 franchi all'anno ma lì devi ovviamente sborsare subito poi c'è il costo del telefono se la tua azienda non te lo dà devi anticipare ovviamente il primo mese perché se no non riesce a fare niente sono circa 50 franchi al mese poi una volta che avrai trovato casa dovrai sborsare subito la caparra della casa successiva oppure devi pagare l'assicurazione per la caparra della nuova casa quindi facciamo che sia un ulteriore 300-400 franchi per l'esempio precedente dei 6.000 franchi di caparra perché ovviamente varia in base al valore della caparra e poi c'è il mobilio della nuova casa che devi sborsare liquido praticamente subito che varia dai 3.000 ai 6.000 franchi facciamo quindi ipotizzando la situazione migliore circa dovrai avere subito liquidi a disposizione per qualunque evenienza per quando ti trasferisci qua in Svizzera circa 10.000 franchi per fare qualunque cosa al netto di trasporti costo della vita e così via questo minimo per andare sul sicuro deve avere almeno 15-20.000 franchi liquidi sul conto disponibili per qualunque tipo di transazione tu debba fare nel giro del primo mese barra i primi tre mesi in Svizzera questo sempre al netto del costo della vita o dei trasporti per venire qua in Svizzera e così via quindi se andiamo a vedere i dati sui conti correnti degli italiani in media gli italiani non potrebbero trasferirsi in Svizzera ma anche in un paese estero al nord dove la vita costa molto di più rispetto che l'Italia questo perché deve avere subito liquidi dai 10 ai 20.000 franchi e devi sborsare per qualunque cosa per sopravvivere e in Italia in media il 70% degli italiani hanno circa 12.000 euro liquidi nei conti correnti questo al netto di eventuali fondi di rischio e qualunque altra cosa non so se questo dato prende in considerazione anche queste informazioni però ovviamente se tu hai soltanto 10.000 euro 12.000 euro non ha senso trasferirsi qua in Svizzera perché c'è proprio il problema di se succede qualcosa al di fuori di tutti questi costi che devi prevedere ovviamente non sei in grado di sopravvivere quindi se vuoi stare tranquillo per trasferirti qua in Svizzera come minimo devi avere 20.000 euro liquidi sul conto pronti per qualunque venenza che magari considerano anche il tuo fondo di rischio ti mando qua il link così vai vedere di cosa si tratta poi una volta che inizierai a guadagnare qua in Svizzera dato che la maggior parte degli italiani comunque sono dei risparmiatori anche se comunque non hanno una cultura finanziaria starai tranquillo perché comunque gli stipendi qua in Svizzera sono molto più elevati ovviamente sì ci sono molti più costi come abbiamo visto però ti posso assicurare che la percentuale di quello che riesci a mettere via se sei bravo in Italia qua riesci a mettere via anche molto di più poi se vuoi investire tanto meglio quindi se hai domande particolari scrivili sotto nei commenti io avrei pagato per avere una guida così specifica su tutti i passaggi da affrontare una volta che uno decide di trasferirsi in Svizzera spero vivamente che questo ti aiuti sia a capire effettivamente come fare trasferirsi in Svizzera sia per evitare di essere preso da degli scam che ci spingono a pagare per trasferirsi in Svizzera per qualunque altra cosa che non ho trattato ti consiglio di andare a vedere il sito di comparis.ch c'è in qualunque lingua anche in italiano anche se magari l'italiano non è il massimo però c'è in inglese sicuramente questo video non è stato in alcun modo sponsorizzato da tutti questi siti che ti ho citato all'interno di questo video quindi apposta per questo motivo like e l'iscrizione a questo canale direi che è l'obbligo quindi mi raccomando cosa aspetti metti like iscriviti a questo canale scrivi nei commenti tutte le tue domande o argomenti che vuoi che approfondisca e ci vediamo in un prossimo video ciao